Torna a riunirsi il prossimo giovedì 15 giugno alle 19 il Consiglio Comunale di Canicattì, convocato dal Presidente Alberto Tedesco. Sono sei i punti all'ordine del giorno che i 24 consiglieri comunali sono chiamati a discutere ed eventualmente approvare. Oltre alle comunicazioni del Presidente, la lettura e l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, atti propedeutici alla discussione vera e propria, gli altri tre punti infatti riguardano la proposta di deliberazione consigliare atto di indirizzo per l'attuazione del dispositivo street control presentato dalla Quinta Commissione Consiliare. Poi si passerà alle misure correttive del rendiconto finanziario 2014 trasmesse dalla responsabile della posizione organizzativa numero 2, la dottoressa Carmelina Meli, ed infine la proposta di riconoscimento di un debito fuori bilancio per una sentenza emessa dal giudice di pace di Agrigento relativa alla controversia tra il Comune di Canicattì e il Consorzio Gricine, società cooperativa proposto dal dirigente del settore servizi alla città, Angelo Licata. La mancanza del numero legale allora prevista per l'adunanza di prima convocazione comporta il rinvio all'ora successiva, poi si dovrà registrare il quorum strutturale dei due quinti dei consiglieri per poter iniziare la seduta.